ciao belle gente benvenuti il mio canale io sono amale e oggi sono andata a fare un diretto a al bonaer il bonaer è un centro commerciale fuori valentia all'incirca dieci minuti da valentia più o meno e da casa mia 12 minuti quindi vicinissimo è il primo negozio dove entro è quello della gas sempre perché come sapete a me piacciono tantissimo i prodotti della gas e purtroppo qua ci sono due le altre marche qua non è che ci sono tantissimi ad esempio come luigiò sinceramente luigiò non l'ho mai vista c'è un centro commerciale anzi un negozio grande che si chiama il corte inglese e la trovi tutti i tipi di marche dalla gas a luigiò a versace trovi tutte quasi tutte le marche però il piccato più grande primo non posso permettermi lo secondo e non trovi roba bella non so perché ma io non riesco mai a trovare della roba bella anche prima quando potevo permettermi lo e alla gas sinceramente non è che ho trovato sto gran che sia per quanto riguarda la roba sia per quanto riguarda i prezzi avevano solo un sconto del 15 al 20 per cento e su tutti gli articoli quindi sapendo che un outlet e un gas outlet sull'outlet ti facevano sconto del 15 20 per cento che sinceramente non è che combinava tantissimo gli anni passati gli anni precedenti c'era sempre delle cose molto carine a prezzi veramente abbordabili invece sono entrata al mango outlet che c'è proprio di fronte e c'è questa tuta intera che io non ho mai visto una tutta sportiva intera a 9 euro 99 va benissimo andrà andrebbe bene però io non sono da tuta intera sinceramente perché io faccio jujitsu quindi quella lì non mi serve assolutamente nulla altre attività vado a fare esercizi a rio quindi non mi conviene guardate che bel pantalone è questo molto carino qual mango outlet c'erano degli articoli interessanti anche di prezzi abbastanza buoni però io stavo cercando un pantalone sapete quel pantalone tipo a palazzo guardate che bella tuta è bellissima questa qua comunque cercavo un pantalone a palazzo e sinceramente non mi interessava altro comunque molto bella statuta potevo anche provarla invece ho provato poco ho provato un pantalone che mi piaceva però mi stava bene però non mi convinceva tanto anche questa tuta è molto carina come quella di prima aveva il suo perché non so perché non l'ho presa probabilmente non aveva la taglia adesso sono passata alla berca si è fatto ho fatto video strati non ho fatto vedere il video di tutte le cose che ho visto ho fatto i video solo le cose che mi sembravano carini perché questo centro commerciale ha le stesse cose che ci sono al centro da zara amazon amazon da zara mango berca mango le stesse cose che ci sono al centro quindi io faccio un passaggio molto veloce e perché comunque i prezzi ho visto che sono abbastanza simili quindi tanto vale perché se lo prendo qua poi soprattutto c'era un sacco di gente una coda infinita per per cambiarsi o per provare le cose mi sono piaciuto tantissimo questi stivaletti rosa fucsia e vellutati sono davvero molto belli l'ho trovati a primark e questa scarpa un po particolare se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella così mi arrivi a tutta la notità ciao ci vediamo domenica